Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi ci crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora Il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro, Tutto è vostro. Ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Del Signore è la terra, e quanto contiene. Del Signore è la terra, e quanto contiene. Il mondo, con i suoi abitanti. E' Lui che l'ha fondato sui mari, e sui fiumi l'ha stabilito. Del Signore è la terra, e quanto contiene. Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti, e cuore puro? Chi non si rivolge agli idoli? Del Signore è la terra, e quanto contiene. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Del Signore è la terra, e quanto contiene. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno, per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi, e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette, e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse Simone, Prendi il largo, e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose, Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola, getterò le reti. Fecero così, e presero una quantità enorme di pesci, e le loro reti, quasi si rompevano. Allora fecero cenno i compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero, e riempirono tutte e due le barche, fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simone Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo, Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui, e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone, Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra. Lasciarono tutto, e lo seguirono.